Ok, ciao a tutti, scusate che è un po' storto ma non so come raddrizzarlo Sono tornata a fare un altro video di Shein, solo che il pacco non è molto grosso e oltretutto c'è qualche cosina che non posso farvi vedere perché sono dei regali per la mia bestie Perché il 2 aprile è il suo compleanno Niente, io comincerai ad aprirlo, anche perché ce l'ho lì da un po' e non vedevo l'ora Solo che questa settimana è stata veramente pesante, non ho avuto poco tempo di fare niente Ok, aperto il pacco, cominciamo Allora, ah sì, ho preso questo Comunque se riesco, dopo vi metterò, vi aggiungerò anche delle clip dove vi faccio vedere queste cose provate Quindi, e poi naturalmente vi lascio tutti i link sotto così se vi interessa qualcosa E un'altra cosa volevo chiedervi, cioè volevo dirvi, scusate, che nel video di Shein che io ho fatto Una ragazza mi ha chiesto, sapete, del coupon, dei codici sconto Io, purtroppo io non, nel senso, non collaboro ancora con Shein, anche se un giorno mi piacerebbe molto Perché quel sito è talmente pieno di roba che mi piacerebbe un giorno collaborarci per prendere un botto di cose Però non ci collaboro ancora Allora io cosa faccio? Quando comunque ho il carrello che voglio ordinare Se non c'è almeno il coupon del 20% di sconto O se ci fosse anche il 25% mi è capitato solo una volta Però se ci fosse anche quello è molto conveniente Io non ordino Voi cosa dovete fare? Quando avete già il vostro carrello pronto Basta che andate al check-in Però prima dovete schiacciare applica coupon E vi escono fuori tutti i coupon che ci sono Però io vi consiglio di aspettare che ci sia il 20% O comunque se seguite dei content creator che comunque collaborano con Shein Di solito loro hanno sempre un codice sconto del 15% da darvi Quindi se proprio non c'è niente ma dovete fare l'ordine Io vi consiglio di affidarvi a uno di questi codici sconto Non lo so, per esempio c'è Lorena Ghiuta che io la guardo Che collabora con Shein Ci sono Camilla e Matilde che collaborano con Shein E vi danno sempre anche loro il 15% C'è Giulia Mapelli Ce ne sono tantissime e tantissimi che collaborano con Shein Quindi non so, cercate, madonna Ce ne sono così tanti che sapete Insomma potete Potete sbirciare Non so, anche magari A me piace tanto vedere i video di Shein Perché Cioè oltre a darti degli spunti che magari dici Che bella quella cosa la voglio anch'io Che comunque ti mettono il link sotto Oltretutto loro danno comunque dei codici sconto sempre Che magari possono anche essere più alti del 15% Comunque questo praticamente è una luce da mettere sopra il telefono Penso che ci vada la pila dentro Comunque dopo lo aprirò E anzi Facciamo che lo apro adesso È fatta così E sì Qua penso che ci vada la pila Però È già un po' rovinato Ok Vedete che ci vanno le pile dentro E non so Niente Dopo lo proviamo insieme Vediamo un po' com'è Ah Satisfine No E niente Praticamente si fa così Proprio come se fosse una molletta Si applica sopra il telefono E Praticamente Tutto questo cerchietto si illumina E Non so Questo forse è il tasto Per schiacciare Sì Poi c'è Sentite C'è il tasto qui sopra Penso che lo schiacci E si illumini tutto E questa è la prima cosa Poi ho preso Questa cosa per mia mamma Che praticamente Nella foto Praticamente C'è una mano Che acchiappa un hamburger E quindi Niente Io l'ho fatto vedere Mia mamma E mi ha detto Ma sì prendi Ma anche me ne costava niente Vabbè Adesso c'è Questa cosa qua Non credo di riuscire a togliere Lo faccio dopo con la forbice Comunque proprio Vedete È una tenaglia E tu fai tac E prendi Non so Prendi la cosa dalla padella Insomma Poi Allora sì Ho preso Di nuovo Queste ciglia finte Perché mi piacciono Tantissimo Una la apro E Sì Così ve la faccio vedere meglio Ma comunque Se avete visto Anche il mio scorso video Già Queste L'avrete Viste E oltretutto Un paio Di queste Che ci sono dentro Io ce l'ho addosso adesso Mi piace Perché ci sono Da più semplici E più extra Tipo queste due Hanno le farfalle Questa qua È ciuffetti rosa Queste sono già tagliate a metà Queste sono molto semplici Queste sono belle fluffy Sono bellissime Ve le consiglio tanto Costano 4 euro Io col coupon L'ho pagato 3 euro 3 euro 8 paia di ciglia finte Secondo me Ci sta veramente tantissimo Poi Ah Ho preso Vabbè Questa cover Che non è per me È già uno spoiler E non dovevo farvela vedere Però Ah Ho preso un paio di scarpe Ve le faccio vedere Dal sito Erano stupende Vediamo adesso come sono Come si aveva questo poso E Sono particolari Nel senso Come piacciono a me Hanno Il tacco trasparente Comunque poi dopo Ve le faccio vedere Anche indossate Appena apri L'odore non è proprio Buonissimo Ve lo dico Allora Allora Le scarpe sono fatte così Vedete che hanno Questo tacco Un po' simmetrico Bellissime Ci sono anche In vari colori E davanti Sono tipo Verniciate E Non avevo Tacchi Tra virgolette Neri Con I dettagli Ah Pensavo Il dettaglio Forse argento Però No Ma il dettaglio è oro Vabbè Pazienza Secondo me Con il tacco trasparente Così stava meglio Il dettaglio Argento Però Non importa Comunque dopo Le andiamo a vedere Addosso Qua si sta già creando Un macello assurdo Ah Poi ho preso Questi cosi Io ve li Io ve li apro Ma non sono Molto interessanti Tanto vi lascerò Il link E voi Quando l'aprirete Vedrete bene Che cos'è Sono praticamente Dei porta Coperte Che quando voi O mettete sopra L'armadio O se avete il cassettone Come me sotto Il letto Quando dovete Togliere poi I piumoni Insomma Le cose invernali Le andate a mettere Non so Dove sapete voi Madonna Mi ha chiuso bene Comunque praticamente Ci sono questi Che Sono di tre Diverse forme Io adesso Mi sa che ho preso La più piccola Oltretutto Però comunque Bella grossa Lo stesso E vedete Voi Ci sono le cerniere Ci sono le cerniere Qui Lo aprite E non so Ci infilate Non so La vostra copertina Che poi dovete mettere via E ce ne sono tre Dentro Dal più grande Al più piccolo Quindi in mezzo C'è anche la misura media Non so Le ho presi per mia mamma Ah Poi ho preso questo Che praticamente Sarebbe la federa Del cuscino In seta Sul sito dice Che è 100% seta Non lo so Se io sei così Però Comunque sia Volevo provarla Perché dicono Che ha Diversi benefici Che non si hanno Da nei capelli Che Non so La pelle non sfrega E quindi Non lo so Tutte queste cose qua Non so se sia vera o no Io l'ho presa Di questo colore Che come vedete Riprende un po' La mia stanza Insomma Che è quel Beggiolino Quel crema E È fatta così In effetti È molto morbida Per carità Ne ho presa solo una Per adesso Però se mi piace Mi trovo bene Prendo anche l'altra Perché io Dormo con due cuscini Non so se anche voi Fate come me E E ci sono anche Di diversi colori E Poi vi aggiornerò Magari in qualche Prossimo video Per farvi sapere Se mi ci sono trovata bene Ah Poi ho preso Questo affarino Che praticamente È un porta tablet Perché non so mai Dove piazzarlo Lo appoggio lì Sopra Il mobile Però Anche se Ho un tablet Che non è nulla Di che Però Per Per avercelo Un po' più ordinato E anche questo Magari dopo Ve lo faccio vedere In una clip Praticamente Il tablet Si mette qui E Secondo me È carino Non so Dopo poi lo vedremo E Poi Ah Ho preso Questo ombrello Per mia mamma Mi ha fatto una testa Così Perché lei ne aveva uno L'aveva preso da Tiger Oltretutto L'aveva parlato Una sciocchezza Però una sua amica Gliel'ha visto E allora Lei Gliel'ha regalato Bello Perché arriva anche Con la sua Custodia E Io non ve lo faccio Vedere aperto Perché lei mi ha detto Non aprirlo in casa Che porta sfortuna E Comunque C'è anche il cosino Che praticamente Te lo fa andare su E Penso che te lo apra Anche Solo che io adesso Non potendolo aprire Non so dire Comunque Lascerò il link Anche di questo Quindi poi voi Potete vederlo Anche aperto Non so se Vi interessano Ste cose Io ho solo Un ombrello Ah questo Non posso farvelo vedere Scusate Poi anche questo Non posso farvelo vedere Ah poi mi sono presa Questa cover Con tutti gli sberlucci Che infatti Non vedo l'ora Di metterla dopo Ve la faccio vedere Guardate che bella Ma è bellissima Comunque Sheen Tipo Ha tantissime cover Troppo bella Non mi piace tanto Il fatto che sia fatta così Perché se tipo Non è tagliata bene Ti copre un po' Gli obiettivi Però Molto bella Dopo la vado a provare E Se riesco Ve la faccio anche vedere Quella di sera Di scuro Brilla tantissimo Poi ho preso Quest'altra cover E Sheen Secondo me Per le cover È imbattibile Perché costano Veramente niente In più Se voi le acquistate Con lo sconto Cioè praticamente Ne potete cambiare Una al giorno Ed è fatta così Con i coricini Però mi sa che Vado a mettere questa Dopo Visto che sono vestita Tutta di rosa E Qui siamo arrivate Arrivati alle ultime cose Anzi Forse all'ultima cosa Che poi vi farò vedere Indossata adesso Perché ho un completo Ve lo faccio poi vedere Adesso Indossato con le scarpe Un completo bellissimo Che c'era anche marrone L'avrei voluto anche marrone Ma Quando poi mi sono decisa A fare l'ordine Non c'era più la taglia Comunque molto basico Mi piaceva Perché c'è Questo toppettino Con queste bratelle Proprio sottilissime Crop Però la gonna È super a vita alta E oltretutto Mi piace Per la mia fisicità Perché ho notato Che comunque Queste cose Mi stanno abbastanza bene E Oddio Adesso Non so bene Come farvela vedere Però comunque È fatta Tutta a balse Comunque adesso Ve la faccio vedere Poi indossata C'è anche questa fascia Che penso Che si risvolta Ah ok Perché l'elastico È qui No Ah no Questo è il sottogonna O no Oddio Non lo so Perché dal Dal sito Sembrava un'altra cosa Non c'era tutto Questo pezzettone Però ok È così Ok è così E penso che Si metta così Dove ci sono Le cuciture laterali Non capisco Cosa sia sto coso Ah ok Al contrario Va bene È al contrario Non lo so Adesso capirò bene Come va Come va messa Abbiate pazienza Però a me non sembra Il contrario Non sembra il contrario Boh No infatti è giusta È giusta Sì è giusta Anche perché Se non il coso Verrebbe fuori Quindi si mette Tipo così Vabbè Adesso vi faccio vedere Tutto Ok sono tornata Questo è il completo E la gonna È fatta così Come vedete Tipo Vedete come È fatta Tutta spiegazzata Quindi Diciamo che Camuffa un po' I difetti No E Niente Le scarpe Sono queste qui E mi piacciono tantissimo Perché Sono Sono proprio particolari E Sì Questo completo Mi piace Però Non lo so Lo vedo un po' strano Come se Avesse qualche Qualche difetto Però Scusate Ignorate Il macello Che c'è Tipo alle mie spalle Però Allora Il top mi piace molto Poi è basico Quindi si può mettere Anche senza Questa gonna Insomma Però Non lo so Di sicuro la tengo Di sicuro non la rimando indietro Però Non so se vi consigliere Di comprarla Perché Che c'ha Tipo questa roba sotto Aspettate se riesco Ve la tiro fuori C'ha Come avete visto prima C'ha questo pezzo in più sotto Che è tipo una sottogonna Che fa spessore E che Non so come sfigarmi Ma tipo fa Ancora come Vi fa cose Che non ci sono Cose in più Penso che chiederò A mia mamma Di Di tagliarmela Però Ho paura Che poi Tipo risulti Trasparente Perché Da qua Non riesco bene A capire Però poi Lo proverò bene Bene Lo farò vedere A mia mamma Perché tipo Allarga Questa roba sotto Tipo non è Come Come fatta sotto E oltretutto Con sta roba Spessa sotto Tipo le pieghe Non Non sono belle Come sotto Non so come spiegarvi Comunque È come se fosse Una sottogonna Un pezzo in più Che secondo me Non serviva Però forse Se l'hanno messo Perché magari senza Questa risulta un po' Trasparente In controluce Però Dai Sì Per quello che costa Comunque Mi piace Ci mancherebbe E le scarpe Sono bellissime Io ho preso Una trentotto Anche se io Porto comunque Un sette e mezzo Così Però Le scarpe Su shin Di solito Prendo un trettotto A meno che Non guardo Tipo i centimetri Perché Io Comunque Di centimetri Se voi Andate a vedere I dettagli Della scarpa Io per esempio Sono un ventitré e mezzo Quindi un ventitré Punto cinque Va bene Anche un ventitré Punto otto Infatti queste sono Proprio giuste giuste E niente Mi piacciono molto Ve le consiglio Se vi piace Tipo il tacco trasparente Soprattutto perché C'erano di diversi colori Comunque adesso torno Per farvi vedere Tipo La cover Che la vado a mettere La luce del telefono Che ho messo le pile Ed è bellissima Ve lo dico già adesso E Il porta Il porta tablet Quindi Vado a farvi vedere Ok sono tornata Volevo farvi vedere La cover È molto bella Alla fine ho optato Per questa E poi volevo farvi vedere Anche la luce Questa è al minimo Poi così è più luminosa E così è luminosa Al massimo Mentre se schiaccio Un'ultima volta Si spegne Adesso non lo so Io non ho ancora provato A metterla sul cellulare Proviamoci Ok Però mi va a coprire Tipo questo Che è Quel tasto lì Non so Cosa bene A cosa serve Comunque Vediamo un po' Però vedete Che è tipo Mi copre la telecamera Vedete Questo pezzo Dove vedete voi a destra Che è rosa E se faccio così Ma Eh diciamo che Non so se è tarato Per O forse È per mettere Al contrario Cioè Probabilmente Per farsi i selfie Dall'interno Sapete Perché copre Va a coprire Proprio la telecamera A meno che Come avevo io L'iPhone 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 XS Insomma Il 10 Per quello Secondo me Già va bene Credo Non lo so Forse va a coprire Anche quella Comunque sì Purtroppo Va a coprirlo Quindi io penso Che si usi Dall'interno Proviamoci un attimo Ok scusate Sono Tornata Mi sono fermata Un attimo Perché Mi era dato Tipo un pizzicolino In gollo E ho iniziato A tossire Comunque Ho cercato Di fare il più buio Possibile Nella mia stanza Ho spento La ring light E ho chiuso Le tende E adesso Vediamo come funziona E comunque sì Secondo me È studiato Per La fotocamera Interna Anche perché In quella esterna Se tipo Volete più luce Basta mettere Il flash Alla fine Comunque Vediamo com'è Allora Questa È la luminosità Minima Proviamo la seconda Wow Già la seconda È una bella differenza Mentre la terza È così Cioè Mio Dio Guardate la terza È tantissimo Niente Io sono ancora In questa età Come prima Però è bellissima No veramente Mi piace tantissimo Com'è fatta Bella E questa Ve la Stra 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 Consiglio È bellissima E Ah L'ultima cosa Vi devo fare vedere Il portatablet E E dirvi anche Che La federa Non è 100% Silky Cioè Seta Ma è 50% Seta E 50% Poliestere Quindi non credo Che comprerò Anche la seconda Anche dovessi Trovarmi bene Anche perché Comunque 20 euro Per una federa Di seta Ma dove Anche perché C'è slip Che è proprio Quel brand Che rivende Proprio gli elastici Tipo per i capelli Di seta Le federi Per il cuscino Di seta Quindi Insomma La provo E poi se Tipo è la nuova Scoperta del mondo Ve lo farò sapere Comunque niente Vi faccio vedere Un attimo Il portatablet Ed è Questo qui Vedete Com'è fatto E dai Ci sta È carino Per quello che costa Se anche voi Non sapete mai Dove posizionarlo Insomma Io ve lo consiglio E Niente Dai Questo All the sheen Finisce qui Spero che vi sia piaciuto Lo so che non c'era Molto da vedere Ma Ho un ordine Poi prossimamente Da fare In cui C'è veramente Una marea di roba C'è di tutto Dai accessori Alle scarpe Ai vestiti C'è un po' di tutto Come in questo Anche se non era tanta roba Però boh Spero che vi sia piaciuto E quindi ci vediamo In un prossimo video Ciao Comunque scusate Che vi ho salutato Perché mi sono accorta Che se tipo La avvicino troppo Vedete che Si vede Quel fascio Di luce Rosa Quindi non va Proprio attaccata Al telefono Cioè va attaccata Al telefono Tipo Non così Perché è super attaccato Ma così Lasciando un po' di spazio Niente Volevo solo Dirvi questa cosa Perché nell'ultima clip Sicuramente avrete visto Che c'era Quella lucina rosa E Colpa mia Perché l'ho attaccata troppo Niente Ciao a tutti Ciao a tutti